Sabato 7 gennaio anche a Pordenone si celebrerà la giornata del tricolore, evento che ricorda la nascita della nostra bandiera, la sua storia e i valori ad essa legati. Dalle 15.30 l'Associazione Nazionale Bersaglieri, in collaborazione con il Comune di Pordenone, farà sfilare un bandierone di ben 85 metri, partendo dalla loggia del municipio, lungo Corso Vittorio Emanuele, per arrivare in piazza 20 Settembre. Qui autorità, associazioni d'arma e ragazzi delle scuole si ritroveranno per ascoltare la fanfara dei bersaglieri. Assessore De Bortoli, 7 gennaio, questa festa del tricolore. Ci racconti un po'. Beh sì, oggi trova a completezza qualcosa che è partito nell'anno 2022, in occasione della festa dello sport in piazza di Settembre, dove abbiamo fatto la prima esposizione della storia del tricolore ed ha avuto molto successo, sia nella cittadinanza sia anche nel mondo sportivo. Abbiamo pensato di arrivare a questo festeggiamento, che è la ricorrenza del 7 gennaio 2023, al 226 anno di ricorrenza del tricolore, di portarlo a completezza, questo progetto. Abbiamo avuto anche l'appoggio del mondo scolastico e dunque abbiamo chiuso quel ciclo che fa parte dalla famiglia, va sulla scuola e conclude con lo sport, che è la completezza di una giornata di un ragazzo, come dico sempre io. Proprio il 7 gennaio, che sarà questo sabato, che partirà il tricolore, un bandierone grandissimo, con l'accoglienza della fanfara dei bersaglieri e con le autorità presenti, premeremo queste scuole che hanno voluto veramente partecipare in modo completo per rendere questo collegamento tra la famiglia, la scuola e il mondo sportivo. In questo caso l'amministrazione comunale di Polderone, con il sindaco Lestando Ciriani, con l'assessorato allo sport da me retto e con la collaborazione dell'assessorato all'istruzione con il collega Alberto Parigi e l'associazione nazionale bersaglieri con tutte le autorità presenti, portiamo a completezza questo grande progetto e per cui diciamo vive l'Italia. Abbiamo proposto nel 2020 al sindaco di commemorare questo momento con un lungo bandierone, è stato un successo, quest'anno ripartiamo, ripartiamo con una collaborazione con tutta l'amministrazione comunale veramente che ci fa piacere e siamo riusciti anche a coinvolgere un po' le scuole, certamente in futuro ancora di più. Regaleremo alle scuole un volumetto che racconta la storia del tricolore, dietro il tricolore ci sta il sacrificio di un popolo e se oggi siamo quelli che siamo dobbiamo ringraziare a tanti che hanno perso la vita per quel simbolo che rappresenta tutti quanti noi italiani. Noi abbiamo chiesto l'aiuto degli studenti proprio per portare questo bandierone enorme di 80 metri, li abbiamo invitati a partecipare con i genitori, per cui gli abbiamo detto che li aspettiamo e che soprattutto abbiamo bisogno di loro. Le scuole verranno tutte quante premiate con un attestato di partecipazione ed alcuni avranno anche un premio più consistente. Abbiamo girato le scuole insieme al presidente regionale e generale Iacca, il sottoscritto e il presidente della sezione Fiorenzo Bertoli che mi hanno aiutato e coadiuvato in questo percorso che è stato veramente soddisfacente e che per noi bersaglieri è molto importante. Abbiamo un piede nel passato, un piede nel futuro, ma lo sguardo anche al futuro dei ragazzi. Si invita l'intera cittadinanza ad unirsi al corteo e a partecipare all'evento in piazza 20 Settembre per festeggiare il compleanno della nostra bandiera.